It was these shells which shattered the Maginot line, paving the way for infantry. Shellmarked pillboxes disgorgen French defenders. The German people saw these films and showered new adolation on the third. La guerra è in fiata. I tedeschi fanno le porte di Parigi. Gli italiani combattono il Nord-H. L'Europa in fiamme. Niente sarà come prima. L'As o vincerà o sarà spostata via. Niente mentre misura. O la vittoria. O la morte. Sono il generale Mark. E... Eh. Allora, loro mi stanno chiamando. Però, io non so. Vabbè, quello è buggato. Allora. Perché io, ovviamente, non so se... Perché qua non ho truppe. Senti, per ora declino. Senti, se ne facessi... Eh. Però, scusa, eh. Senti, se voi polacchi reclutate altro... Che so. Scusa. Quanto... Manpower... Avete? Industria. Ah. C'hanno più Manpower di me. Eh. Quante truppe hanno? Sei direzioni. Vabbè, le ho lette da qua. Hanno due Special Forces. Hanno... Solo queste navette. Non hanno... Aereo nautica. Senti, ma io forse... Qualcosa agli italiani... Posso mandarla, forse. E visto che per ora... Non sono ancora ufficialmente in guerra. Scusa, perché... Questo è... 18. Senti. Supportartilleri. 900. Scusa, quanta sigheria ho? 1 e 4. Che principalmente... Allora... A me servirebbe... Tantissimo... La compagnia logistica. Senti... 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 1 e 2... Vanno qua. E... Si tolgono... Dai cosiddetti... Allora... 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 Questa ancora... Allora... Compagnia logistica... No... Devo... Ricercare... I camion... Mi sembra ovvio... Che... Non so... Senti... Eh... Eh... Ah... Vero... Avrei... Dovuto... Senti... Eh... Voi due... Scusa... Dove sono loro? Eh... Voi invece... Allora... Eh... Facciamo... Un... Quest'altra civile... Scusa... Che c'è? Mi... Ecco... Ti pareva... Mi stanno... Eh... Bombardando casa... Il Luffenburgo è... Capitolato... Quindi... Allora... Mentre voi... Vanno qua... Con loro... Protetti... Bene... Dalla... Marina... Italiana... I Poloni... Eh... Andrà i Poloni... I Polacchi... Entrano con noi... Scusa... I miei... Scusa... Dove... Cacchio... Sono... Questi qua... Ah... Eccoli... Dai... 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 Oh... Bene... Oh... Bene... Sì... Allora... Dai... Che... Riusciamo... Prendere... Parigi... Suppostati... Dai... Dai... Panzer... Dei... Dei... Nossi... Cugini... Tedeschi... Perchè siamo... Cugini... Sono... Sono... Più... Amici... Allora... Eh... Senti... Voi... Muovetevi qua... Senti... Senti... Se io... Faccio... Mi... Che state... Eh... Questo lo... Potrei fare... Se fossi... La Germania... Oh... Oh... Siamo entrati a Parigi... Ok... Loro si stanno muovendo... Oh... Perchè... Non ho... Preso niente... Io... Ah... Senti... Eh... Voi... Andate qua... La morte di... Rudolf Hess... Va da quel paese... Eh... Com'era il... Il nostro amico... Benito Mussolini? Vabbè... Eh... Ok... Eh... 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 Loro... I... I nostri amici... Cari... Amici... Lettoni... Ma che... Mazza... C'hanno... Sentite... Eh... Muovetevi un pochino... Oh... Ok... 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 Allora... Marsa... Marsa... Marrut... Eh... Siamo a quattro... Giorno... Mi... Invii... Anche... Una mezza... Panzerdivision... Ti pareva... Ti pareva... Eh... Allora... Mobilizzazione... Parziale... Così... Poi... Scendiamo... Eh... Eh... È un problema... È un problema... È un problema grave... Eh... Eh... Voi... Andate qua... Scusa, ma l'Italia C'ha i carri qua Io non li vedo Cioè Ah, ecco, scusa Mandali qua Scusa, ma Non posso Richiedere Artiglieria migliorata Eh Senti, allora Un'altra civile La facciamo qua È come al solito Perché Un primo ministro marziale Ottimo Induzia nazionalizzata Devo fare questo prima Capito Che cacchio è successo? Ah sì Perché Non ha accettato Di diventare un puppet Eh Beh Ora verrà Caccio rotata Che aiuto Loro Sì Loro Eh No Ancora Scusa Germania Che Che stai facendo Qua Mi No Ma non mi dai Niente Expeditionary force Senti Senti Blitz Senti Il Panzer 2b Eh Scusa Il Panzer 4 Ce l'ha Sì Ah Outdated Perché Mo Mo che ha Outdated C'è Qualcosa Che non Che non è vecchio B Eh Basic Medium C'è sì Eh Basic Medium Tank Ah Lo accetta Ottimo Allora Eh Sì Ah C'hanno No Ah Non L'ho Ricercata Main Armament Close Non Mi Travi Atrice C'è Eh Ok Mettiamolo In Scusa No Call to Arms Ok 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 Hanno accettato Ok 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 False attack Allora Allora Fanno solo Intercettazione Allora Interwarfighter Allora Magnifico Sono Inutilissimi Uh Che erroraccio 51 Oh Bene La Cecoslovacchia È capitolata E io non ho avuto Un cavolo Di Di equipaggiamento Proprio niente Oh Ah Già ho il vie Beh È È sua È ancora state Ora Ci avrà Senti Sì 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 Attacca Con il carretto Scusa Ma che sta succedendo A caso No Scusa Ho solo Questi due Sottomarini Piccoli E Stupidi Senti Senti Allora Tu Vai qua E Proviamo a fare La cosa Più Pazza Del mondo La piccola Lettonia No Allora Allora La piccola Senti Facciamo che Prima Ah Sto Senti Voi Attaccati qua Oh Allora Voi Muovetevi qua E No L'ideale Sarebbe Poter Andare Lì Ok Fì Voi Attaccate qua Dai Che fe Raggiungiamoli Ancora Due giorni Due giorni Aia Eh Oh Bene Ai Senti Senti Tu Oh Bene Friare Arrivata Quindi Uno Due Va Tu E E E tu, e tu, l'ultimo, qua. 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 Oh, cazzo. E tu, l'ultimo, qua. E tu, l'ultimo, qua. E tu, l'ultimo, qua. E tu, l'ultimo, qua. La Polonia è mia. Ok. Ok. Fondati tedeschi. Ah. Ah, l'ultimo. Ok. 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 Allora. Ok. 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 Oh, dai, 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 dai. Ok. 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 Ok, ok. Ok. ... ... ... ... ... ... ... ... tu in Germania grazie, chiama anche la... scusa tanto è o cacchio grazie Gionania grazie scusa grazie Gionania allora ci voi tornate subito a casa e e quindi ci salutiamo con lui e il fame che ci dichi ha la guerra quindi saluti grazie 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 a tutti